E' già l'intro? No, 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 mi stavo posizionando, tranquillo Però se vuoi la uso come intro No, fai cose strane a volte No, ok, la metto come intro Ciao, benvenuti Benvenuti, ciao Simo, ciao Tano, ciao M Non era mia intenzione Ciao, Tirl Ciao, ciao Tirl In questo momento sono un porco spino Perché abbiamo appena finito di registrare la partita di Eren Che è sul suo canale, così come sui canali di Eme e Tano Trovate altre parti di questa modalità Prima di andare a giocare queste nuove Bedwars con le armi Però vi voglio ricordare che tutte quante le sere A partire dalle ore 7 Mi potete trovare in live sul mio canale Twitch E che in particolar modo questa sera Sempre a partire dalle ore 7 Sarò in live con Pokémon Ultraluna Potete trovare il link all'interno della descrizione Nel commento pinnato in alto Insieme a quello del mio shop ufficiale Nel quale sono disponibili un sacco di felpe, maglie, t-shirt e stickers Per tutti quanti gli eroi veri E adesso andiamo a goderci delle grandi giocate Nelle nuove Spicy Wars Yeee, salve Benvenuti in queste nuove Bedwars con le armi Ve l'hanno già spiegato tutti quanti Ma ve lo spiego anch'io per dovere di cronaca Abbiamo lo shop normale del villager Dopodiché qua abbiamo il contrabbandiere Che ci permette di shoppare le armi vere e proprie Con le quali andare a fare più più sciuti-sciuti In testa a me Tano Ricorda che non è più il blu Tano però Tano è il verde ed è opposto a me Raga mi lasciate lo spazio dritto per andare da Tano Io non ti rompo le scappole se vuoi andare No vabbè comunque ho già notato un piccolo trend Stiamo già cominciando a tryhardare dopo solo tre partite Guarda sono già tutti al centro No ma cosa te lo fa pensare Tano? C'è Emerald è già al centro Ma cosa stanno andando? Ma cosa volete? Ma che volete? Tano ha già assorbito tutto è vero? Io vado a rompergli le cose a Simo No Tiar Per favore fall Ciao Eren No mi hanno ucciso Simo non mi picchiare Ti sto bardando il letto Cosa vuoi di più? Come gli stai bardando il letto? Ti sto bardando il letto Simo ti sto bardando il letto e ti lamenti pure Con la lana me lo bardo? Sì con la lana Ma che cosa chi lo guarda? Cos'è sta storia? Che vuol dire che gli bardo il letto? Se non ti va bene che ti bardo il letto te lo rompo allora Va bene Vai rompilo Il 2 è sempre il primo comunque Ma no Simo Simo no Ma come? Ma sei ucciso Non è il modo di giocare questo Hai ragione In effetti dovrei usare le armi che ci sono nella morte Ecco E' successo perché eri fuori base Non perché volessi fare del male a te Sappilo Io ti voglio bene Eren Ma quindi abbiamo un Eren dall'alto ora Oh Raga ma state scherzando? A questo punto rascio anch'io quando so di voi Avessi le robettine Emera smetti di girare attorno come un idiota Che casino Ma dov'è Emerald? Era da me l'ho ucciso Ma non ho più un letto io adesso Perché le mie partite devono essere sempre quelle più cazzare? Il letto è sopravvalutato In effetti Il letto è sopravvalutato Su questo sono d'accordo Ho usato una delle armi nuove Che è questa Fa più più shooty shooty Ah no Porca Tano lo sta davvero per fare Tano non è neanche bardato Guarda che siete degli idioti Main trimis Guarda che bello Guarda me Rascia subito È quello che sta andando a fare Il mio letto non è bardato raga Non ha avuto tempo Ci sta già andando Eme? No 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 Io ho bisogno del mio letto comunque No Dai Tano ha solo quello Non ha neanche una casa Ho un letto buttato in un parcheggio Io Ma perché ho tre frecce? Io dove l'ho presa? Perché a volte quando colpisci Esatto le armi usano le frecce per colpire Vabbè quindi Eh quindi cosa dovete che vi dica Oddio stiamo per cadere da solo Mi sa che ci sarà bisogno di una partita numero due Per ritenere soddisfacente quello che sta accadendo qui Però Statevi giù tutti in massa Ah io Ma che cavolo di armai? È una k Farnarnia No 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 L'avo dietro Oh calmo Best partita ever Vero La migliore Emeralda City armi Oh Pazzo Lo stai per buttare di sotto No Allora Sotto un bel video mettete like No ma dai siamo a 5 minuti e 42 Devo farla intro di 4 minuti Minchia watch time al 100% Sì ma i miei soldi come li guarda Non da youtube in effetti Seguitemi su twitch Partitina numero due Quella di prima non conta Era soltanto una partita meme Vero? No no Conte come? Vabbè l'ho vinta quindi a me sta bene se conta Cioè Sì ma moralmente persa Moralmente persa per quale motivo sentiamo Tano? Perché non l'ho vinto io Mi sembra giusto La morale sarebbe quindi questa Cioè che o vinci o non vale Tano ha ufficialmente 7 anni Scusatemi se non accetto la sconfitta Non ho capito Non ho niente Però Cosa? Forse è meglio così È meglio tagliarla Ok La taglierò In editing la capirai Non ho capito In editing la capirai No No Come scusa? Ho preso proprio il buco La probabilità che adesso una cosa del genere era minima Insomma ma poi pensavo fosse eme rosso Che è sto carino? No 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 sono io Ok sto coprendo qui Perché è facile da rompere quella cosa lì Ossia il blocco di vetro Quindi bardo Posso andare al centro? Ma perché non mi ricarica più le pistole? Perché quelle di bronzo non si ricaricano eh Ah vabbè Chi è che è morto? È eme Ok rip La dico non me la ricaricava Me ne sto con gli stick e basta Comunque vi rendete conto che il primo a morire è sempre il blu Anche nell'UHC non è che sono io il primo a morire È il blu che muore sempre Togliamo il colore blu dalle squadre Ragazzi per favore possiamo togliere il giocatore Sì sì beh Tano può anche andarsene per davvero Infatti l'altra volta non c'era è andata benissimo l'UHC Amiciui Sì abbiamo fatto anche un botto di viso E infatti secondo me è quello il fattore determinante Posso rifare poi il video senza Tano? Io dovrei fare altre cose dopo però va bene Tanto senza Tano è più facile registrare quindi Me la prendo con Eren allora Aspetta sono io il rosso vero? Sì sono io il rosso Faccio casino mi sono abituato a prendere il verde adesso Eh ma anch'io infatti mi sto accoppando È un disastro però da un lato va bene così Ma il verde fa schifo ragazzi Sì vero è un colore orribile Già no il verde quello bello acceso o ci sta? Ma soltanto gli idioti si prendono Cioè si fanno le cose di colore verde tipo i capelli che schifo Beh l'hai detto tu comunque io non ho cento Io non ho più i capelli cosa vuoi da me? Ora che esce questo video potrei non averceli più davvero Davvero? Non è che ti rapi? Non lo so Fammi partecipare Eh guarda tu sai quando vieni qua a Bologna quindi Ma Emerald Era un trillo di MSN Vado i trilli di MSN No Tano Ciao Eme I trilli di MSN e i poke di Facebook Non lo so Come mi sono salvato? Oh E senza armatura non ti conviene Ah giusto hai ragione Non ti conviene Lo dico perché sennò ti butto di sotto No 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 c'hai ragione Zì c'hai ragione Lasciami l'oro lì e ti lascio andare Va bene guarda Tano dove sei? Sono qua Sono giallo Non me l'hai lasciato È lì? No è vero l'hai lasciato veramente Te ne ho lasciato uno Però tre Non hai specificato quanto dovessi lasciarne Però comunque al centro ce n'era altro E sono contento Perché per uno Non sarebbe bastato A proposito di centro Non ci sono ancora andato Tornandoci vivo E c'è la FIAR FIAR ma mica vuole venire da me Ma tu guarda tu sei Non ti vedevo Cancro Ti giuro che non ti vedevo Simo Pelle delle palle Ma come? No dai che infame Da fuori Sì Da fuori Porca Un cuore Vabbè rip Tutti quanti le mie belle armi sono andate Io qui sbeato stavo salendo Pensavo tu volessi salire Invece Cavolo Fearless is gone No In realtà non ancora ci sono È passibile di denuncia sta cosa Io ve lo dico Ma infatti non la tengo mai nella vita Non sono idiota Ma infatti voi comunque A me Allora Non mi fate A me non mi fate Sì l'ho detto Uscire dalla cazzo di base Non c'è nessuno fuori dalla propria base Sono io Tano se non mi fai prendere dell'oro Io ti tolgo dei canali consigliati Io te lo dico Ti sparo Se ti avvicini ti sparo Ti tolgo dei canali consigliati Se non c'è la raccetta A me torno in base Massimo tanto non c'è nessuno nei canali consigliati Cambia qualcosa Ah no ce li hai canali consigliati È su Instagram che non segui nessuno Pardon Quanto devo pagarti per farmi seguire su Instagram? Mi sa che l'abbiamo già avuta questa conversazione 10.000 Davvero se ti dieci 10.000 euro mi seguiresti su Instagram? Sì Un giorno lo farò Oh anche te un cecchino? Forse Urca Guarda ti faccio i jumpshot Aia Perché io voglio Tano morto Ma come Ma non ti permette Ho il minilino su di te E se mi devi perfettamente la testa Non va bene Devi dare leggermente Sembra quasi Più basso Più basso Prendo il legno Vabbè rip Non è così importante Oh Oh Come Non mi hai peccato Come hai fatto Non lo so Mi hai riuscito con il mezzo cuore Beh raga Un missile al centro Un missile al centro Eh Fallo Dio Fallo L'impatto L'impatto È morto È morto No Sì Quindi mi rimane Simo Ah ma Cioè nel senso Tu sei Cioè nel senso Ciao Oh Oh boy Qua c'è da stare attenti Esplode No Eccolo Vieni dalla mia palude Bitch Scusa Shrek Facciamo il caricone di nuovo E andiamocene Senza destare alcun tipo di sospetto 3 2 1 Esplodo 3 Stavo aspettando Stavo aspettando anche Orca Dai prendimi Maschione Ah ma sei lì No non prendermi Maschione Uno fra poco esplode È esploso Oh Come fa ad essere ancora vivo Piazza i blocchi Piazza i blocchi Vero 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 Eh ma Manuda Non riesci Devi andare nella sua base per forza È la meglio Fidati Tanto E almeno Prendi un pochettino di roba al centro Shhh Ne ho già vinta una Oddio Oddio No Yes E quindi ho salvato il letto Pog Raga che tatticalezza Mamma mia La granata così No Eh perché tu ti salvi le cose È vero Eh sì No in realtà avevo l'oro da parte L'ho usato quello che avevo da parte Praticamente tu hai Come sempre Bucato il sistema A tuo vantaggio Lanciandoti una granata in casa Cosa che senza senso Dovevo ucciderti Beh la granata Cioè Sei la persona più lame che conosco Ma perché lame Cosa ho fatto di lame Sei una persona super lame Cosa ho fatto di lame Questa volta Esiste Perché mi sono lanciato una granata Per ucciderti E evitare che mi rompessi il letto No perché Tu Esiste Allora Sul fatto che io sia molto Lameroso Sono d'accordo Purtroppo Non posso negarlo Però bisogna dire che L'ha pagata cara Cioè Sì La granata è molto costosa Sì sì L'ho pagata 10 Era proprio L'ultima spiaggia Ho detto O la va o la spacca Ha spaccato Ed è andata Ha spaccato tantissimo E spaccato sono i maroni Eh vabbè Dai Simo Non sai che ti voglio bene Ma che cazzo me ne frega Grazie Ti ho preso Io con la spada No Ci ho provato In edge shot Al volo Non ho più nulla Ho sculato un sacco Cioè te lo dico No no Il pompa Ha due colpi Non è il pompa Il cecchino Oh mio dio Le hai preso in no scoop Sì Vabbè Tre volte praticamente No due volte Una non era in no scoop Facci anche il 360 Già che ci sei Eh vabbè Poi La situazione è critica Non posso mica mettermi a fare il 360 A casaccio Ah Yes No sono caduto Lol Ma io cosa ho fatto Qua ero già morto Ma sono caduto a caso Ma io cosa c'entro Se cadi a caso tu Ma si capisce niente di sta roba comunque Quale roba Niente Ok Ok E questa è fatta E adesso È mosimo Quindi il centro per me è problematica Piccato perché non ho poi altro modo di contrastare eventualmente E vabbè ho fatto l'errore di sbaglio Ahia Ah ma questa qua è la tua base Simo Non è vero Ma come No aspetta Mi hai preso No ma come Come è possibile Hai preso gli interni della casa Come che Hai dato il razzo dentro Eh sì sì Hai preso tre volte col razzo Stavo andando a nascondermi In maniera idiota Invece che continuare per la Ciao Ma è stato bello È stato bellissimo Sono un idiota Vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti